buonasera chiedo scusa per l'ambientazione di questo video sono in macchina nella sera di milano evidentemente non sono a casa e quindi non è il massimo diciamo così dal punto di vista scenografico però di solito contano maggiormente i contenuti anche se chiaramente anche l'occhio vuole la sua parte non per il sottoscritto naturalmente ma per quello che gli sta dietro attorno ma anche lì vedremo col tempo di rimediare di fare qualche cosa di più carino di quanto è stato fatto fino ad ora allora come sapete il consiglio di stato ha respinto il ricorso della fcc quindi nessuna sospensiva sulla questione del documento da consegnare ai legali di cherubini e paratici quindi sostanzialmente tutto procede e tutto sarebbe già arrivato nel senso che questa carta questo carteggio della procura federale alla covisoc sarebbe già arrivato nelle mani dei legali secondo alcune indiscrezioni si tratterebbe di chiarimenti sul concetto di plus valenza senza che mai però venga nominata la juventus se questo dovesse essere appunto vero difficilmente la juve potrebbe far valere questa carta come prova di inizio dell'indagine a suo carico nel momento che la società non viene nominata dal momento che la società non viene nominata questo a livello di indiscrezioni poi chiaramente bisognerà capire se è vero se non è vero ma comunque ripeto se così fosse allora sarebbe difficile per la juve poter far valere il famoso principio e quindi procederebbe con il suo iter delle motivazioni o meglio delle delle del ricorso al collegio abitrale del coni avverso le motivazioni della sentenza di condanna di 15 punti questo documento contenuto o non contenuto di questo documento non mi sembra che possa variare più di tanto la sensazione che trapela dalla juventus sul buon esito del ricorso al collegio abitrale lo testimonia anche il le parole lo testimoniano le parole utilizzate quest'oggi nella conferenza stampa da massimiliano allegri quando dice esplicitamente la juve deve vincere contro la sandoria perché ha la possibilità di andare tre punti sopra l'inter in questo momento i punti sono tanti sotto l'inter nella classifica riscritta dopo la sentenza della commissione d'appello federale lui dice dobbiamo ragionare così sull'ottica dei 50 punti continua a dirlo questa volta è andato ancora più esplicitamente a parlare di secondo posto possibile lasciando l'inter alle spalle perché appunto l'inter ha perso contro lo spezia vuole essere uno stimolo vuole essere uno sprone vuole essere realismo vuole essere vuole vuole essere come dire sentore di buon esito del ricorso al collegio abitrale il colline non lo so possono esserci tutte queste componenti in questa dichiarazione sicuramente è una dichiarazione molto forte la situazione molto forte perché quando ci si limita a dire dove dobbiamo pensare ad avere 50 punti è un conto quando si comincia a dire abbiamo la possibilità di arrivare secondi in classifica da soli staccando l'inter fa un altro effetto un altro peso nel contesto di questa situazione naturalmente no perché se non fosse accaduto nulla sarebbe una dichiarazione quasi banale no anzi banale banalità del resto fa rima con verità in questo caso è una voluta forzatura della interpretazione della classifica e quindi è un'affermazione molto carica di responsabilità quella che ha fatto la natura della juventus e difficilmente posso pensare che sia un'affermazione che è scaturita improvvisamente in conferenza stampa che sia frutto di una improvvisazione da parte di massimino le conferenze stampa ormai giorno d'oggi sono molto studiate c'è un briefing prima di rispondere ai giornalisti tra il protagonista in sé che può essere l'allenatore può essere un calciatore e l'ufficio stampa che prevede evidentemente certe domande anche perché certe domande sono sicuramente scontate ed era normale che ci fosse la domanda sulla partita di domani e su anche un po sulla situazione che sta vivendo la juventus e la risposta molto spesso è frutto appunto di un dell'esito di questo briefing difficilmente viene lasciato tutto al caso a meno che un allenatore venga provocato esploda eccetera allora lì è chiaro che non non era prevedibile o forse era prevedibile ma l'allenatore magari o il personaggio in questione sbraca nonostante gli fosse detto gli fosse stato detto oggi stai trovando questa domanda cerca di controllarti va bene comunque detto questo è innegabile che si tratti di una partita molto delicata quella di domani lo ha rimarcato più volte e quando lo rimarca più volte allegri un concetto è perché teme teme che ci sia un calo vi ricordate cosa ha detto brema e proprio ai nostri microfoni della partita dopo la partita col Friburgo ha detto spesso scendiamo in campo abbiamo buttato via punti contro queste squadre per atteggiamenti sbagliati allo stadium scendiamo in campo molli e questo sarebbe un gravissimo errore specialmente alla luce di quello che ha detto allegriere quindi l'altro concetto importante ripetuto più volte la squadra deve capire l'importanza di questa partita l'importanza di questa partita inserita in questo tipo di contesto al momento in cui tu dice che hai 50 punti che puoi arrivare e puoi essere secondo solitario lasciando l'inter a tre punti chiaro che se tu fai tutti questi discorsi e poi domani non riesci a battere la Sampdoria e allora scusatemi ma il vaffanculo a tutto l'ambiente ci sta nel senso che cioè ti prepari vuoi far bene ottieni dai calciatori la fiducia su questa idea di non mollare mai di non mollare di un centimetro proprio perché non si sa mai quello che può succedere magari ti ritrovi di nuovo secondo eccetera ovvio che se poi l'atteggiamento è diverso e il risultato soprattutto non arriva ma il vaffa ci sta tutto è ci sta tutto dall'esterno verso l'interno e dall'interno verso l'interno cioè è normale no se butti via un'occasione del genere no cioè perdi anche come dire di credibilità butti giù il castello che stai costruendo che peraltro ha fondamenta non di argilla ma può avere fondamenta di mattoni belli solidi quindi se butti via tutto con l'assemblea poi è vero i campionati si vincono o comunque le posizioni vincere no perché giustamente è impossibile vincere questo campionato sarebbe comunque impossibile però le posizioni in classifica finale le trovi proprio passando da questo tipo di partite no e in questo tipo di partite la juve ha spesso mostrato degli atteggiamenti sbagliati sia in casa che in trasferta e allora è chiaro che domani la juve non deve lasciare una in tentato per quanto riguarda la formazione non ci ha capito niente allora siamo sicuri che gioca perini in porta e l'avvic in attacco chiese di maria non ci sono uno tra paredes e barenecea ha detto così allegri e mi aspetto più barenecea che paredes dietro potrebbe riposare anche anche danilo quindi ci sono o gatti o o rugani in procinto di entrare ecco non vorrei che ci fosse un po troppo turnover per carità allora chiesa di maria sono fuori ken è fuori perché il campionato ci sua e poi c'è il discorso di pogba che giustamente è stato rintegrato ci mancherebbe altro ecco pogba mi aspetto che una mezz'oretta di campo domani la possa fare iscrivetevi al canale domani sarò la quindi ci vediamo nell'intervallo con la diretta facebook e a seguire ovviamente sempre su questo canale youtube l'approfondimento o meglio gli ultimi minuti da vivere assieme ciao ragazzi a domani